Dopo le battaglie del comitato contrario alla variante di Gimarra, i 20.000 volantini distribuiti e i pareri tecnici di esperti del settore, oggi sull'argomento è intervenuto l'architetto Michele Nardella che avanza una proposta per un nuovo tratto di viabilità a Fano Sud. Il fine di questo nuovo tratto di viabilità è quello di sgravare la statale dal traffico attuale per portarlo in una direttrice secondaria e quindi fare in modo che successivamente la statale sud diventi una strada di quartiere. Questo piano, ha spiegato l'architetto, si inserisce in un progetto ben più ampio che riguarda il collegamento che va da sud a nord per arrivare fino a Pesaro. Ci siamo inseriti nel dibattito cittadino, ha ricordato Nardella, dopo lo stanziamento dei 20 milioni di euro e dati alla mano. Abbiamo dimostrato che con questi fondi, ha detto, si può realizzare un'intera viabilità di collegamento che sgrava dal traffico tutta la città. Considerate che attualmente in città, sulle direttrici nord-sud, giornalmente viaggiano 40.000 mezzi e quindi la città è praticamente soffocata da questo traffico intenso. Cosa è successo all'epoca? Il Comune ha affidato uno studio di fattibilità. Lo studio di fattibilità in una prima fase è arrivato a definire che la soluzione giusta fosse la variante di Gimarra. Noi non siamo assolutamente favorevoli alla variante di Gimarra. Noi riteniamo questo un grave errore urbanistico e pensiamo che sulla storia urbanistica della città questo errore graverà eccessivamente e pesantemente nei prossimi anni. Ecco, qua a sud dove passerebbe? La parte sud noi l'abbiamo divisa in tre lotti, tre stralci successivi. Uno immediatamente realizzabile che praticamente intercetterebbe il traffico sulla statale 123 per San Costanzo quindi da torrette sulla statale 123 e poi devierebbe su strada di mezzo che è un'impronta stradale già esistente. Quindi dovrebbe essere rifatta, come si dime, e porterebbe tutto il traffico da torrette fino alla rotatoria, alla prima rotatoria delle opere compensative. Questo tratto, ha precisato Nardella, noi l'abbiamo stimato dal punto di vista economico. L'importo sarebbe di circa 9 milioni di euro, mentre segmento verso nord di 12 milioni. Con questa dimostrazione contabile noi abbiamo chiesto all'amministrazione di occuparsi dell'intera viabilità e non solo del tratto nord. Avete avuto un riscontro dal Comune? Il Comune ha dato mandato alla provincia per fare uno studio di fattibilità da circa un anno e siamo in attesa di questo studio di fattibilità. E poi voglio ancora aggiungere che non stiamo parlando di un progetto non realizzabile. A dimostrazione di ciò è il fatto che il Comune lo ha inserito totalmente, così com'è, nelle linee programmatiche del nuovo piano regolatore generale. Basta solo realizzarlo.